Salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Vi ho fatto vedere qualche giorno fa l'unboxing del mio nuovo iPhone 15 Pro, ma in questo caso voglio già iniziare a parlare di accessori. Vi faccio vedere il kit di protezione della Tauri, ma solamente dopo la sigla. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di commentare facendomi sapere la vostra opinione. Ovviamente il link di questo kit di protezione lo trovate in descrizione. Io già l'ho utilizzato l'anno scorso con il mio iPhone 14 Pro, quindi quest'anno ho deciso di ricomprarlo per vedere se l'efficacia è la stessa. Io mi sono trovato davvero molto bene, ovviamente testerò anche altri accessori, non solo questi, però comunque sia è un ottimo kit per iniziare a proteggere il vostro iPhone, iPhone 15 Pro, almeno al momento che non avete tantissime alternative, perché ancora non ci sono molte cover in giro. Abbiamo quindi già spacchettato, mentre parlavo, il pacchettino, diciamo. All'interno troviamo degli adesivi, come al solito Tauri ci tiene a fare questi piccoli omaggi a coloro che decidono di supportare questo brand comprando questi prodotti. Poi troviamo la cover, una cover trasparente che però è una cover MagSafe. Il magnete è davvero molto potente, l'ho già testata l'anno scorso con il mio iPhone 14 Pro e si tratta esattamente della stessa custodia. Ovviamente il foro è più ampio per dare la possibilità di premere il tasto azione, sicuramente anche le dimensioni sono leggermente cambiate, perciò tra poco lo andremo ad installare. Andiamo a vedere che altro c'è nella confezione. C'è un pacchettino in cui ci sono tutti gli accessori per installare questi prodotti, quindi all'interno troveremo, vediamo, sicuramente una pezzetta per pulire il nostro iPhone e per pulire anche lo schermo prima di andare ad applicare le pellicole, che tra poco vi faccio vedere. Ci sono gli sticker che fanno da guida per installare la pellicola, c'è l'adesivo per rimuovere la polvere, le pezzette imbevute d'alcol per pulire, la spatola per applicare la pellicola e poi c'è anche la pezzetta per andare a pulire dopo aver, diciamo, bagnato lo schermo. Andiamo a vedere che altro c'è, sempre compreso nel kit c'è il proteggi fotocamera, ce ne sono due e poi ci sono anche due pellicole in vetro temperato. Anche in questo caso io vi consiglio di utilizzarle almeno all'inizio, o almeno adesso che ancora non ci sono molte alternative, ad esempio su internet ancora non si trovano quelle in ceramica, che io reputo nettamente superiori. Mi stanno già arrivando delle pellicole in versione privacy, quindi poi andremo a vedere anche quelle, però al momento andiamo a vedere come si installa questo kit. Sfruttiamo la scatoletta per inserire il nostro nuovo iPhone, andiamo a posizionarlo in questo modo e andiamo prima di tutto a pulire lo schermo. Ovviamente prima di iniziare la procedura io vi consiglio sempre di lavare le mani in modo da rendere l'applicazione più facile possibile e andiamo a pulire con una salviettina imbevuta d'alcol. Dopo aver fatto questo andiamo ad asciugare il nostro iPhone e in questo caso anzi lo tiriamo fuori perché voglio farvi vedere un altro metodo di applicazione. Andiamo quindi ad appoggiare l'iPhone in questo modo. Molto bene, io solitamente applico queste pellicole a mano perché è da anni che applico appunto pellicole anche nella mia attività, quindi sono abbastanza esperto. Però vi faccio vedere un metodo che aiuterà anche i meno esperti ad applicare con precisione millimetrica questa pellicola. Andiamo quindi ad appiccicare i nostri sticker lungo la parte lunga della pellicola. Naturalmente dovrete appiccicarli dal lato superiore della pellicola, quindi la prima pellicoletta con il numero 1 deve stare nella posizione inferiore mentre gli sticker nella posizione superiore diciamo. Andiamo quindi ad appoggiare la nostra pellicola sullo schermo e una volta trovata la posizione giusta andiamo ad appiccicare gli sticker lungo la cornice del nostro iPhone. In questo modo abbiamo trovato la posizione perfetta per la pellicola che non si muoverà più. Quindi che cosa dovremo fare a questo punto? Solleviamo la nostra pellicola. La rigiriamo dall'altro lato. Andiamo a ridare una pulita allo schermo, magari anche aiutandoci con l'adesivo per rimuovere i residui di polvere. Molto bene. E poi non dovremmo fare altro che tirare via la pellicola, la prima pellicola diciamo. E possiamo andare a rigirare su se stessa la pellicola di vetro che ovviamente si troverà nella posizione precisa perché abbiamo messo gli sticker. Quindi andiamo a rimuovere i residui d'aria. Magari ci aiutiamo anche con la spatoletta. Possiamo a questo punto rimuovere gli sticker. E come potete notare andiamo a rimuovere qualche residuo di polvere, scusate, d'aria. E come potete notare l'applicazione è riuscita perfettamente. Forse c'è qualche bollicina da questo lato, ma era un po' scomodo con la fotocamera davanti, però questo è il metodo per applicare la pellicola. Andiamo quindi anche a montare il proteggi fotocamera, quindi andiamo a pulire velocemente le nostre lenti. prendiamo il proteggi fotocamera, togliamo la protezione e lo andiamo semplicemente a premere contro le lenti. Molto bene. Anche in questo caso abbiamo applicato tutto con successo. L'ultimo step è la nostra cover, quindi andiamo ad applicare anche la cover. In questo caso ci basterà farla scorrere all'interno, premerla e andare a rimuovere la pellicola protettiva. Molto bene. Questo è il nostro kit di protezione per l'iPhone 15 Pro. Come potete notare l'iPhone è completamente protetto. Ovviamente queste pellicole di vetro sono leggermente imprecise, nel senso che lasciano sempre almeno un millimetro da entrambi i lati di spazio scoperto, quindi io vi consiglio magari di cambiare questo tipo di pellicole non appena usciranno le alternative più valide. Ovviamente iscrivetevi al canale perché ne proverò delle altre, già sono in arrivo, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Per quanto riguarda invece il resto, la cover è davvero ottima. Io l'ho provata anche l'anno scorso sul mio 14 Pro ed è stata davvero perfetta. Ovviamente il materiale fa sì che questa cover dopo almeno 5-6 mesi inizi ad ingiallire, però non ci sono grosse alternative. Se volete prendere una cover che comunque lascia inalterato il design del vostro iPhone, purtroppo dovete prendere queste cover trasparenti e sono tutte quante dello stesso materiale che proprio per natura ingiallisce, quindi non potete farci niente dopo qualche mese, dopo 5-6 mesi dovete comprare un nuovo kit e una nuova cover se volete mantenere perfetto il design del vostro iPhone. Per quanto riguarda la protezione delle camere, è precisa, non c'è nemmeno il minimo distacco tra la cover e il proteggi fotocamera, quindi anche in questo caso siete protetti. Ovviamente le fotocamere non vanno a filtrare troppo la qualità della fotocamera. Io l'ho tenute per tutto il tempo che ho avuto il mio iPhone 14 Pro e non ho notato assolutamente differenze tra la fotocamera scoperta e questo proteggi fotocamera, quindi assolutamente le potete utilizzare anche se fate fotografie professionali. Perciò che dire, vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine, vi ricordo che il link di questo kit di protezione lo trovate in descrizione, si trova su Amazon, il prezzo non è assolutamente eccessivo, quindi potete acquistarlo da lì. Iscrivetevi al canale se volete vedere la prova di altri accessori come questi, me ne arriveranno davvero molti altri. Lasciate un like, commentate facendomi sapere la vostra impressione e ci vediamo nel prossimo video.